Grazie a tutti. Interrogazione Mancini-Fiorini. Anzi, hanno peggiorato la situazione. Questo ovviamente non va a merito di questa amministrazione. La struttura è stata chiusa il 12 settembre del 2017, quindi di fatto i cittadini umbri che, parlo della zona ovviamente sud, sa benissimo che non sono più in grado ormai da anni, attraverso il nostro treno storico con più di cento anni di storia, di raggiungere la città di Terni. Importante snodo ferroviario perché con quello si può arrivare ovviamente più facilmente a Roma. Quindi cosa le chiedo in pratica? A che punto è lo stato dell'arte? Perché più volte abbiamo assistito in questi mesi a infiniti annunci e oggi cittadini che devono percorrere quella strada, sia in direzione sud e nord, parlo di tutti i paesi importantissimi, le comunità importantissime della media valle del Tevere fino ovviamente a San Gemini, insomma non sono in grado di raggiungere né Perugia né Terni con tempi ragionevoli. Perché il servizio sostitutivo assessore è lento, come era a un certo punto diventato lo stesso treno. Tempi di percorrenza dalla media valle del Tevere, oltre l'ora e mezzo per arrivare al centro di Perugia e quindi questo è quello che sta succedendo. I cittadini cosa fanno assessore? Prendono mezzi propri, con aggravi infinite, ovviamente di spese familiari e di servizi per tutti. Ora quindi con questa interrogazione io le chiedo i tempi previsti effettivamente per la riapertura di quella che è stata considerata anche per sua stessa missione una struttura di importanza nazionale, ma ancora di più vitale per il sistema del trasporto regionale. Io non riesco a immaginare assessore, e penso che lei ne abbia ovviamente contezza, un'Umbria senza un FCU che funziona. Io, chi l'ha costruita tantissimi anni fa, aveva una visione, secondo me, avanti secoli, ma noi la stiamo perdendo questa visione. Quindi io le chiedo un impegno, perlomeno un punto di chiarezza su questa struttura e lo chiedo che lo faccia in modo sostanziale, senza mettere ipotesi alternative, se non quella della chiarezza. Grazie. Bene, noi consigliere Mancini rivendichiamo come giunta regionale di aver dato una prospettiva a questa ferrovia che altrimenti non c'era in questi ultimi anni. E soprattutto, ripeto una cosa già ripetuta e detta in questa aula, ma anche in conferenze stampa, dopo il luglio 2016 in queste ferrovie interconnesse è cambiato il mondo, è cambiato il sistema di gestione, è cambiato il sistema di interventi di manutenzione, che non sono più quelli di prima. L'aver sottoposto ad ASF, cioè sotto legida di ASF, i controlli sulla sicurezza, hanno prodotto non solo in Umbria, ma in tutte le regioni italiane dove sono queste ferrovie interconnesse, questa condizione. E cito i famosi 50 chilometri orari che sono stati anche all'oggetto della cronaca qualche giorno fa. I 50 chilometri orari nei 54 chilometri riattivati tra città di Castello e Ponte San Giovanni. Non l'ha decisi la Regione, non l'ha decisi l'Azienda, ma l'ha decisi ASF. E sono 50 chilometri orari che sono in vigore su 11 ferrovie su 14. Altra questione è legata per il fatto che il precedente Governo abbia riconosciuto con un decreto dell'aprile del 2018 che la tratta sud di interesse nazionale. Non è che lo dico io, lo dice il decreto che è di interesse nazionale. E questo è un altro passaggio assolutamente importante perché significa che nel prosieguo questa tratta potrà beneficiare di finanziamenti nazionali, poi arriverò anche ai finanziamenti. L'altra questione su cui stiamo lavorando, assolutamente importante, è questo passaggio sotto RFI. C'è stato già un primo passaggio del quale ho dato conto all'opinione pubblica il 5 di marzo, quindi con una deliberazione assolutamente importante del Consiglio di amministrazione di RFI per l'acquisizione appunto della gestione della presa in carico della nostra infrastruttura, tutti i 153 chilometri ovviamente. Altre deliberazioni secondo quello che prevedono le leggi, questo non è che lo decidiamo noi ovviamente, dovranno essere fatte nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, entro fine mese dovrebbe esserci una nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione di RFI, il tutto dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Socii di RFI e ovviamente questo è un passaggio fondamentale, perché come lo abbiamo già detto in tante lingue, la capacità ovviamente di gestione di RFI è assolutamente diversa della capacità che avrebbe avuto che ha la nostra azienda, con tutto ciò che ne consegue anche del trasferimento del personale e quant'altro. Dal punto di vista delle risorse, noi abbiamo chiesto al Ministero, o meglio il Ministero ha chiesto che le regioni facessero una ricognizione rispetto alla necessità di risorse, noi abbiamo sottoposto un piano quinquennale che supera i 200 milioni nei cinque anni, sappiamo in maniera informale che il MEF ha chiesto una riduzione di queste risorse richieste da parte delle regioni, non solo della regione dell'Umbria ma anche di altre regioni che hanno le ferrovie interconnesse e sappiamo che è in corso di formazione di un decreto che prevede una risorsa che si attesta intorno ai 700 milioni di euro in tutta Italia per le ferrovie interconnesse. Ovviamente stiamo sollecitando il MIT perché si arrivi quanto prima alla definizione di questa risorsa e di questo decreto perché nella ripartizione noi riteniamo che le cifre che noi abbiamo dato nel piano quinquennale vedono nel 2019 una cifra di 90 milioni, sappiamo che questa cifra è stata ridotta ma sarebbe comunque un'importante risorsa per aprire i cantieri nella tratta sud. Da ultimo ci sono risorse rinvenienti che stiamo cercando di recuperare attraverso l'attivazione del comitato di monitoraggio sempre con il Ministero che sono rinvenienti dal contratto di programma del 2001. Sappiamo però che queste risorse che sono svariate decine di milioni sono bloccate al Ministero perché il Ministero ha una partita pignorata di circa 800 milioni, questo è un po' il dato della situazione. Stiamo cercando e sollecitando il Ministero che liberasse queste risorse per poter riprendere i lavori. In questi giorni siamo impegnati sul passaggio a RFI. Prego per la replica. Allora io prendo di fatto ancora una volta assessore che non ho, capisco materia difficile, però non abbiamo date e non abbiamo dati certi. Quindi rimane ancora una cosa, il prezzo invariato degli abbonamenti e l'altra certezza i tempi improponibili in era moderna per quelle che in passato erano tempi di percorrenza molto ridotti rispetto ai tempi poc'anzi detti. Quindi c'è una responsabilità sia politica sia di chi è delegato alla gestione della nostra infrastruttura in questi anni che ancora forse è in quegli uffici e se io fossi stato a capo, il capo politico di questa giunta sicuramente ne avrei sostituiti ampiamente la quasi totalità perché se i risultati sono quelli la politica assessore deve porre il rimedio cambiando gli uomini e le donne nei punti chiave. Poi quando lei parla ovviamente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza è vero, c'è il limite, però i lavori che abbiamo fatto, e stiamo parlando in questo caso della Tratta Nord, non hanno riguardato la parte degli impianti di sicurezza. Quindi si è fatto, ovviamente sbagliando, ma non l'abbiamo sicuramente sbagliato noi della Lega, una progettazione che ha fatto l'infrastruttura ma che non ha fatto le sinapsi tecnologiche per adempiere a quella normativa. E ancora una volta è un errore, e ancora una volta, concludo Presidente, tempi che una volta ero nell'arco tra città di Castello e Terni, essere di quasi tre ore, adesso siamo a cinque. Non è questo il progresso che serve a questa Regione. Grazie. Bene, andiamo con l'ultima interrogazione. Il consigliere Smacchia a interrogare l'assessore Chianella, contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati. Prego. Grazie Presidente. Assessore Chianella, c'è una gradatoria ferma dal 2016 e riguarda circa 65 domande già finanziate per quanto riguarda contributi al miglioramento sismico e al rafforzamento statico, strutturale degli edifici privati. È una gradatoria che prevedeva circa 200 domande, di queste appunto 65 sono state dichiarate ammissibili, per circa 3 milioni e 200 mila euro. Riguardano in particolare queste domande cinque comuni dell'Alta Umbria. In particolare parliamo di otto interventi nel comune di Città di Castello per oltre 380 mila euro, 48 interventi nel comune di Gubbio per circa 2 milioni e mezzo di euro, un intervento a Montone per 20 mila euro, due a Pietralunga per circa 60 mila euro e 6 a Umbertide per circa 300 mila euro. Queste risorse che erano state previste e messe a bilancio per questa gradatoria sono poi state dirottate a seguito degli eventi sismici del 2016 in via prioritaria per quanto riguarda la gestione della fase dell'emergenza del terremoto. Almeno così ci è stato detto. Finita questa fase dell'emergenza, nel bilancio di previsione 2019 queste risorse sono state riscritte a bilancio nella specie dell'avanzo vincolato per circa 6 milioni di euro. Ora, come è avvenuto per quanto riguarda le scuole pubbliche? Allora, quando nel mese di gennaio sono state svincolate tutta una serie di risorse con le quali, grazie anche alle quali, sono state messe sul tavolo insomma interventi di prevenzione sismica di queste scuole quello che le chiediamo con questa interrogazione magari in una successiva variazione o assestamento di bilancio è di svincolare anche questa parte di avanzo vincolato proprio per far sì che queste 65 domande possano essere finanziate al più presto. Grazie. Signore, prego Assessore. Sì, grazie Presidente. La Regione dell'Umbria con delibera di giunta regionale del 6 settembre 2016 ha approvato il primo programma di ottoazione delle ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile del 2015 per l'annualità 2014 e per complessivi 3 milioni e 200 mila euro e spicci per interventi strutturali su edifici individuando gli interventi ammessi a contributo per scorrimento della gradatoria Umbria Nord perché, apro una parentesi, diciamo il programma di intervento prevedeva la divisione dell'Umbria in due parti Umbria Nord e Umbria Sud. Gli interventi ricadono, come lei diceva, consigliere Smacchi nei comuni di Città di Castello, Cubio, Mondone, Pietralunga e Umberti. In attuazione del programma della delibera di giunta regionale 1201 del 2016 l'assessorato che io rappresento ha proposto l'atto 837 del 2017 con il quale risultavano ammissibili a contributo 36 soggetti privati per un ammontare complessivo di euro 1 milione e 700 mila nei comuni di Città di Castello, Cubio, Monte, Santa Maria di Barina Pietralunga, San Giustino e Umberti. I suddetti interventi non sono stati attivati in quanto i fondi sono confluiti nell'avanzo vincolato come faceva riferimento lei. La Regione con delibera di giunta del 16 aprile 2018 ha approvato l'aggiornamento della gradatoria definitiva degli interventi sugli edifici privati ammissibili a contributo, comprendendo 197 interventi per un complessivo importo di 9 milioni accertando economie pari a 1 milione e 2 derivanti dalle precedenti annualità. Con la medesima delibera la Regione prendeva atto che non esisteva copertura finanziaria per gli interventi di che trattasi in quanto le risorse erano appunto confluite 6 milioni erano appunto confluite nell'avanzo di amministrazione. Gli obiettivi della manovra di bilancio 1921 sono incentrati principalmente alla riqualificazione della spesa regionale verso un forte impulso e accelerazione degli investimenti per circa oltre 50 milioni di euro che contribuiranno allo sviluppo e alla crescita del territorio. L'accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 prevedeva pertanto la possibilità di svincolare le risorse in avanzo di amministrazione per consentire rapidi investimenti. Tuttavia l'accordo non comprendeva tipologie di investimenti in quel caso su edifici privati ma solo su opere pubbliche e pertanto sono state richieste al Servizio regionale di bilancio e finanza tutte le somme che erano confluite nell'avanzo di amministrazione relative agli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici o rilevanti. A seguito di suddetta richiesta sono stati ottenuti 4 milioni e 700 mila euro e tale importo in considerazione delle ridigide regole di rendicontazione previste dall'accordo Stato-Regioni è stato prontamente impegnato per il finanziamento del Palazzo della Provincia di Perugia qui davanti sede della Prefettura finanziato per scorrimento della gradatoria assistente appunto degli edifici pubblici strategici. Il suddetto intervento di miglioramento sismico dell'edificio oltre a preservare un bene di straordinaria valenza storica aumenta quale edificio strategico le performance della gestione delle emergenze. Le risorse da destinare gli interventi su edifici privati in gradatoria che permangono ancora nell'avanzo vincolato all'amministrazione sono come detto 6 milioni e sono sufficienti a finanziare circa 120 interventi. Pertanto al fine di poter continuare l'attività di prevenzione sismica che noi riteniamo positiva perché non è che tutte le Regioni le hanno fatte e quindi dei risultati ci sono stati posso testimoniarlo anche come professionista in questo caso perché gli interventi che si configura negli edifici sono o miglioramento sismico o rafforzamento locale che è assolutamente importante ai fini dell'elevazione della stabilità dal punto di vista sismico degli edifici. Quindi pertanto al fine di poter continuare l'attività di prevenzione sismica per la tutela del patrimonio privato su cui la Regione da anni è fortemente insegnata e impegnata i suddetti fondi sono stati richiesti a bilancio regionale quindi noi auspichiamo che nella fase come lei diceva dell'assestamento di bilancio del prossimo assestamento di bilancio lo possano essere riscritti e quindi finanziate quelle pratiche che oggi risultano ancora non finanziate. Grazie Assessore Andiamo alla replica Grazie Assessore la sua risposta è completa e ci permette di guardare con ottimismo quantomeno ad una fase nel breve periodo in cui queste risorse possono essere svincolate. Le ribadisco la necessità in una Regione dall'alto grado sismico come la nostra di poter utilizzare queste risorse anche in considerazione del fatto che sono risorse cofinanziate dai privati e quindi anche per quanto riguarda il settore dell'edilizia mettere in circolo milioni di euro sulla fascia penninica è sicuramente un atto importante perché oltre ai 6 milioni del pubblico ci saranno altrettanti almeno da parte dei privati e quindi ci sono oltre che i proprietari in attesa anche aziende anche tecnici che da anni stanno cercando di completare la pratica e di completare i lavori. Grazie